Allora, com'è andata questa camminata? 11 km pesanti, morti. Da dove venite? Di dove siete? Di dove? Da dove? Scoglieri. Scoglieri. Da dove state arrivando? Che parrucchia siete? Che parrucchia siamo, Nico? Stanche? No, non so il tempo. Ecco, la giornata regionale dei giovani della Sardegna. Sono appena arrivati qui ad Arborea dopo aver proposto circa 11 km. Da dove? Da dove? Da dove state arrivando? Da dove? 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 Io non mi viva lo scopito che sta chiarando ti o dico Io ne sono in mente, io vengo Io non mi viva lo scoperto che ne ha il corpo E non mi viva lo scoperto che non mi viva E' un po' fa' nesso a traguire il risultato Grazie per la visione!